Mia piccola Maria. La prima lettera di San Pietro. Al capitolo 2. Versetti dal 4 al 9. Così recita. Stringendovi a Lui. Pietra viva. Rigettata dagli uomini. Ma scelta e preziosa davanti a Dio. Anche voi venite impiegati come pietre vive. Per la costruzione di un edificio spirituale. Per un sacerdozio santo. Per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio. Per mezzo di Gesù Cristo. Si legge infatti nella scrittura. Ecco. Io pongo in Sion una pietra angolare. Scelta. Preziosa. E chi crede in essa non resterà confuso. Onore dunque a voi che credete. Ma per gli increduli. La pietra che i costruttori hanno scartato. È divenuta la pietra angolare. Sasso d'inciampo e pietra di scandalo. Loro vi inciampano perché non credono alla parola. A questo sono stati destinati. Ma voi siete la stirpe eletta. Il sacerdozio regale. La nazione santa. Il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui. Che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Viene quindi detto che il Dio. Dei Suoi figli. Dei Suoi credenti. Ne fa una stirpe eletta. Un sacerdozio regale. Una nazione santa. Suo popolo. In modo che ne proclamino al mondo le sue opere dandone di Lui testimonianza. Popolo che è attratto dalle tenebre perché manifesti la sua meravigliosa luce a cui poi molti verranno ad irradiarsene per portarne il riflesso. Egli fa dei Suoi figli amanti anche pietra angolare. Pietra preziosa. Fondante. Dato che su di essa può edificarne la sua intera costruzione spirituale. Il suo intero corpo mistico. Sua gente santa e glorificata in Lui che comporrà nella sua unità la sua patria nei cieli. Così come io. Vostro Signore. Sono stato la pietra angolare. Le fondamenta. La trave sul quale. Per mio mezzo. Ha potuto dare costruzione alla redenzione per la salvezza delle anime e all'edificazione della Chiesa. Di cui usufruite e vi arricchite dei Suoi doni divini fino alla fine dei secoli. Per poi trionfare perennemente nella sua vittoria nel Gaudio Eterno. Così ognuno di voi è chiamato ad adempiere il suo compito. Uno distinto dall'altro. Per ognuno il Dio ha decretato un progetto che si fa pietra. Mattone. Che cementa l'uno sull'altro il compimento del suo piano divino. Chi? Dovrà adoperarsi alla preghiera. Al servizio della parola. Al servizio della parola. Del santo sacrificio in offerta di riscatto per il mondo intero. Come nel sacerdozio. Chi? A servizio dei poveri e dei malati. Chi? A servizio della vita come nelle famiglie. Tutti sono necessari. Vitali. Ciascuno compone un tassello per formare la pienezza dell'armonia del mosaico. Ognuno si fa cellula che dà nutrimento e generazione alle altre. Per l'equilibrio dell'intero organismo. Ogni cellula che vive di me. Si fa sana. Benedetta. E ne apporta il suo bene a santità a tutte le altre cellule. Spesso però troverete tra di voi altri fratelli. Altre pietre che non vorranno cementarsi a voi. Cercheranno persino di abbattere le pareti da voi già costruite. Di creare falle ai vostri muri per portarne ogni distruzione. In modo che non ne prosegua la costruzione a loro sgradita. In quanto contrari alla via che indico. Alla meta che ne deriva. Contrari al mio insegnamento che è verità. Alla mia vita che è vita d'amore. Voi però non vi abbattete. Non vi scoraggiate. Persistete senza timore. Come me. Vi fate pietra di intralcio al loro male. Sasso che ne impedisce l'avanzata. Mattoni che si fanno collante alla mia opera di cui io solo sono il costruttore. Io. Cristo Signore. La compio. Non badate quindi all'esito. Al successo. Alla magnificenza dell'opera. Ma lavorate solo per il mio amore. L'amore con il quale vi sarete adoperati senza fermarvi nella vostra fede in me. Ve ne darà santificazione. Si farà aderenza. La calce che io ne pongo. Con il quale io stesso ne porterò a compimento che ve ne darà il merito che vi condurrà al regno. Chi avrà adempiuto coscientemente e santamente il proprio progetto ne verrà glorificato dal Padre Santissimo. Che ne darà per esso il suo riscatto di rinascita ed accrescimento ad ogni redenzione al prossimo. Coloro che avranno compiuto le opere di Dio. Della sua santissima volontà. Verranno innalzati al suo regno. Ove egli attende poiché si sono fatti mediante la propria fatica. Il proprio sforzo nella loro partecipazione ed edizione. Stirpe eletta del suo nome. Ne hanno acquisito la sua impronta e il suo tratto d'appartenenza. Sacerdozio regale. Dato che nel proprio sacrificio d'amore offerto a Dio. Si sono fatti redentivi. Ne hanno celebrato la propria santa messa a beneficio di tutti. Nazione Santa. Poiché hanno contribuito ad accrescere gli abitanti con la propria opera. E il Padre Santissimo raccoglierà i suoi figli fedeli. I suoi mattoni ormai fattisi celestiali. Atti per costruire la sua città in paradiso. Nel quale si farà compiuta. Portata a termine la sua meraviglia. Interamente glorificata. Indistruttibile ed eterna. Vi benedico. Grazie a tutti.